Il ponte Belvedere ancora non c'è, di fatto costerà molto di più. Il doppio, l'opposizione tuone e svela le carte dopo un accesso agli atti. Si passa da quasi 4 milioni a quasi 8. Dunque, o era sbagliato il progetto definitivo oppure sono incomprensibili gli aumenti. Si scopre pure che le dimensioni del ponte saranno diverse, diventando più largo e più impattante sul famoso Civico 29, ma ci sono problemi anche per la progettazione esecutiva. Alla fine sono diventati due i progetti e non si comprende come agli evitare dei costi dei materiali debba corrispondere anche a un aumento della progettazione esecutiva. Ma ci sono altre ombre non chiarite come quella del Ruppo di Missionario. L'ingegner Di Gregorio è ancora Ruppo visto che non c'è stata nessuna nomina e visto che Di Gregorio oggi è dipendente della Gran Sasso Acqua e non più del Comune? La progettazione esecutiva sarebbe dovuta essere unitaria, così non è stata. È stata scissa spiegabilmente perché magari c'era più la campagna elettorale da dover svolgere e quindi una demolizione che si doveva fare in fretta e furia, ma la progettazione esecutiva doveva essere consegnata, possiamo dire, entro il 10 di ottobre, cioè in quei 40 giorni naturali e consecutivi da contratto che l'aggiudicatario doveva rispettare. Ebbene, il progetto esecutivo è stato consegnato il primo luglio del 2022, ragion per cui ci sono giorni, settimane, mesi che dovranno essere calcolati e su cui ancora non riusciamo a capire se sono stati calcolati o meno le penali, ma quello che abbiamo potuto constatare è che c'è stato un aggravio di spese anche sulla progettazione, quindi non solo sui lavori ma anche sulla progettazione esecutiva di ben 63 mila euro in più, che di fatto sono quasi da comprendere perché a fronte di penali che magari dovrebbero essere calcolate abbiamo un aggravio e abbiamo un aggravio su una voce di spesa che non riguarda la progettazione, come possono essere quello dei rincari dei materiali che la guerra russo-ucraina ha creato un po' generalizzando su tutti i settori della nostra vita. Molto critica anche Stefania Pezzopane sulla gara fatta. Tanto il ponte non c'è purtroppo, nonostante le promesse, nonostante gli annunci di tempi che si procrastinano continuamente. Poi il ponte costerà molto, ma molto di più di quello che era stato messo a base d'asta e lì c'è il primo problema, perché se sono veri i dati e i numeri che abbiamo scoperto con l'accesso agli atti, si va molto al di sopra della soglia comunitaria e quindi la procedura scelta probabilmente doveva essere un'altra, quella della gara aperta, la gara prevista per le somme così elevate. E poi c'è un merito, perché il progetto definitivo è molto diverso dal progetto esecutivo e le spese di progettazione anch'esse lievitano fino al raddoppio.